In nomine Patris e Fili e Spiritus Sancti. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria ti amo nella divina volontà. Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spiri più ardenti che tu mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovranna regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Estretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fruttus ventis tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal libro di cielo, volume 33, 7 ottobre 1934, amore reciproco tra Dio e la creatura, scambio d'azione, labirinto d'amore in cui viene messo chi vive nel mio fiat, seminatore, Dio seminatore del campo delle anime. Sono sotto le onde eterne del fiat divino e la mia povera mente sente il suo dolce incanto. La sua potenza è virtù operatrice che investendovi mi fa fare ciò che fa lui. Mi sembra che col suo occhio di luce dà vita e fa sorgere tutto, e col suo impero impera su tutto, tiene conto di tutto. Neppure un respiro gli sfugge, dà tutto e vuole tutto, ma con tanto amore che dà dell'incredibile. E quello che è più da stupire è che vuole che la creatura sappia ciò che fa per averla inseparabile con sé e farle fare ciò che fa la stessa divina volontà. Io sono rimasta incantata e la mia piccolezza si sperdeva e se non fosse che il mio dolce Gesù mi scuoteva facendomi la sua visitina sarei rimasta lì chissà quanto. E tutto bontà e amore mi ha detto. Mia buona figlia, non ti meravigliare, tutto è possibile a chi vive nella mia volontà. C'è un amore reciproco da ambo le parti tra Dio e la creatura, ma tanto che la piccolezza umana giunge a volere e a fare suoi gli atti di Dio e come suoi li ama tanto che metterebbe la vita per difendere amare e dargli tutta la gloria, il primo posto d'onore ad uno solo di questi atti divini. Dio di contraccambio fa suoi gli atti della creatura, trova in questi atti se stesso lo sfoggio del suo amore l'altezza della sua santità li do come li ama ed in questo amore reciproco si amano tanto che restano i prigionati l'uno nell'altro ma prigionia volontaria che mentre li rende inseparabili si sentono felici perché Dio si sente amato e trova il suo posto nella creatura ed essa si sente amata da Dio e tiene il suo posto nell'ente supremo. non vi è felicità maggiore per la creatura poter dire ed essere certa di essere amata da Dio e non vi è felicità maggiore per noi essere amati da chi fu creato da noi solo per amarci e per compiere la nostra volontà. ora la creatura mentre si trova nel suo creatore vorrebbe che tutti ramassero che lo riconoscessero ed in virtù del fiat divino di cui è animata vuole far sorgere e richiama tutti gli atti delle creature oppure in Dio per dirgli tutto ti do e per tutti ti amo quindi si fa insieme col volere divino pensiero per ciascuna intelligenza sguardo per ogni occhio, parola per ogni voce palpito per ogni cuore, moto per ogni opera passo per ogni piede che cosa non mi vuol dare chi vive nella mia volontà? tutti e tutto perciò dice la mia volontà sento il bisogno di possedere il tuo amore e la tua potenza per poter avere un amore che vi dica per tutti ti amo sicché in essa la nostra volontà ci fa trovare l'amore di richiambio di tutti gli atti delle creature oh volontà mia in quale potenza tu getti l'anima e il labirinto d'amore che vive in te è tale e tanto che la piccolezza umana si sente affogata d'amore e come refrigero sente il bisogno di rintracciare tutti per dire il suo continuo ritornello ti amo, ti amo come sfogo del grande amore che le dà la mia divina volontà questa è la nostra vita tutta d'amore la nostra storia tessuta ab eterno tutta d'amore tale deve essere chi vive nella nostra volontà ci deve essere tale accordo tra essa e noi da formare un solo atto e un solo amore ora figlia mia benedetta voglio farti conoscere come amiamo le creature di nostri continui sbocchi d'amore che versiamo sopra di loro il nostro primo atto della nostra felicità è amore e dare amore se non diamo amore ci manca il respiro, il moto e l'alimento al nostro essere supremo se non diamo amore a quei fatti amiamo arresteremmo il corso della nostra vita divina ciò che non può essere ecco perciò i nostri ritrovati le nostre industrie i nostri stratagemmi d'amore sono innumerevoli ed amore non solo di parole ma di fatti ed opere incessanti operanti e senza mai cessare ora come nella creazione creiamo un sole che con la sua luce operante e calore da luce a tutti trasforma la faccia della terra va seminando in ciascuna pianta chi colora, chi profuma, chi la dolcezza non vi è cosa in cui il sole non vi getti il suo effetto quasi come seme di maturazione per rendere tutte le piante alte per alimentare l'uomo e dargli piacere con tanti gusti quasi innumerevoli così il nostro essere supremo riservandosi per sé la parte più nobile dell'uomo qual è l'anima più che sole fissiamo il suo interno lo dardeggiamo lo plasmiamo e come lo tocchiamo più che luce solare gettiamo il seme del pensiero nell'intelligenza il seme del nostro ricordo nella memoria il seme della nostra volontà nella sua il seme della parola nella sua voce il seme del moto nelle opere il seme del nostro amore nel cuore e così via di tutto il resto ora se l'uomo ci fa attenzione lavorando il campo della sua anima insieme con noi perché mai ritiriamo il nostro sole divino di notte e di giorno stiamo sopra di lui più che tenera madre ora ad alimentarlo ora a riscaldarlo ora a difenderlo ora a lavorare insieme a coprirlo e nasconderlo nel nostro amore quindi faremo un bel ricolto che gli servirà ad alimentarsi di noi e a decantarci il nostro amore la nostra potenza la nostra sapienza infinita e se non ci fa attenzione resta soffocato il nostro seme divino resta senza produrre il bene che possiede e lui resta a digiuno senza gli alimenti divini e noi restiamo a digiuni del suo amore come è doloroso seminare senza raccogliere ma con tutto ciò è tanto il nostro amore che non lasciamo continuiamo a dardeggiarlo a riscaldarlo quasi come sole che non si stanca di fare la sua passatina di luce ad unta che non trova né piante né fiori dove gettare assieme dei suoi effetti o quanti beni di più farebbe il sole se non trovasse tante terre sterili pietrose ed abbandonate dall'uomo così noi se trovassimo più anime che ci facessero attenzione daremmo tanti beni da trasformare le creature in santi viventi e copie nostre fedeli però nella nostra volontà divina non vi è pericolo che era una creatura che non riceva la nostra semina giornaliera e che non lavora insieme col suo creatore nel campo dell'anima sua perciò sempre nel mio Fiat ti voglio non ti dare pensiero di altro così faremo un bel raccolto e tu ed io avremo alimenti abbondanti da poter fornire gli altri e saremo felici di una sola felicità bene amici anche oggi questo brano è oltremodo ricco di suggestioni verità sublime io vorrei anche oggi magari un po' andare un po' in ordine sbarso però partire dalla cosa che credo che sia una di quelle che maggiormente colpisce che Gesù a nome della Santissima Trinità perché usa il noi qui dica non c'è felicità maggiore per la creatura poter dire di essere certa di essere amata da Dio vabbè non solo che ci possiamo arrivare ma ne possiamo e credo che ne dovremmo anche essere profondamente persuasi ma il punto è la è come prosegue questa questa frase questo periodo e non vi è maggiore felicità per noi essere amati da chi fu creato da noi solo per amarci e per compiere la nostra volontà cioè vogliamo un attimo rifletterci un po' cioè non vi è maggiore felicità non vi è felicità maggiore per noi dice Gesù a nome della Santissima Trinità usa il noi con la N maiuscola io non lo so se sono soltanto io un po' strano o forse sono troppo sensibile ma io quando sento queste cose rimango senza parole la Santissima Trinità non ha felicità maggiore che essere amato da me e in questo da me ti ci puoi mettere ci ci devi mettere tranquillamente tu ci si può mettere chiunque quindi io povero mortale peccatore miserabile imperfetto che non ne combina una giusta manco per scommessa avrei il potere di rendere felice la Santissima Trinità che abbiamo appena celebrato io penso che avere un'informazione di questo genere e non trasecolarne sia un po' complicato e questo periodo è preceduto da un'altra affermazione oltremodo significativa Dio si sente amato e trova il suo posto nella creatura e facciamoci questa domanda ma Dio si sentirà amato da me perché noi stiamo sempre a pensare il contrario io non mi sento amato da Dio cioè io lo sento lontano cioè non non mi sento amato è il contrario ci abbiamo pensato al contrario ma Dio si sente amato da te guardate che il far sentire una persona amata è fondamentale a voglia noi anche faccio l'esempio tra marito e moglie o tra padre e figlio o tra amici a dire no tanto lo sa che gli voglio bene lo sa lo sa è una cosa che si fa col cervello dice vabbè non mi ha fatto niente di male tutto sommato più o meno vabbè ma lo sente è un'altra cosa che tu faccia sentire amato qualcuno guardate che quasi tutti quanti i problemi quasi tutti degli esseri umani quasi tutti sapete da che cosa dipendono non si sono sentiti amati non hanno conosciuto l'amore non casualmente ho messo all'inizio di questa meditazione l'alfabeto degli amanti di Michele Zarrillo l'alfabeto degli amanti perché l'amore è un linguaggio che ha la sua grammatica che ha il suo alfabeto e noi dobbiamo imparare a coniugarlo in continuazione Gesù parla di amore reciproco ricordiamo sempre una cosa il ricambio d'amore è una cosa fondamentale anche tra esseri umani l'ho detto già tante volte quando ti viene fatta una gentilezza tu hai il dovere di ricambiarla esattamente con un atto uguale e contrario un atto uguale e contrario a quello che hai ricevuto pensiamo tra marito e moglie è veramente una delle esperienze più devastanti a mio avviso da un punto di vista psicologico non ricevere i dovuti ricambi d'amore è stato un bambino vuole un attimo avere qualche attenzione da parte di un genitore glielo fa capire e quello magari in mano a mano dice adesso non ho voglia adesso c'è altro che pensare adesso c'ho da fare adesso sono stanco adesso sono nervoso questa cosa che a noi ci sembra niente è una devastazione nella psiche del puro ragazzino eh ma una cosa così piccola eh ma noi su queste antenne siamo sensibilissimi perché siamo stati programmati cioè programmati forse è un termine un po' bruttarello siamo stati creati dall'amore che cosa ci ha detto Gesù 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 ci ha detto questa cosa qui guardate devo andare a ritrovare cioè Dio non sa fare nient'altro che questo Dio è amore questa è nostra vita tutta d'amore dice Gesù la nostra storia tessuta ab eterno tutta d'amore abbiamo celebrato la Santissima Trinità ma la Santissima Trinità non è altro che un mistero immenso infinito non ci possiamo penetrare ma la Trinità è un mistero d'amore infinito Dio è trino perché se fosse da solo non potrebbe essere già in se stesso amore perché l'amore non è mai un atto di solipsistico ed egoistico amore di se stesso in solitudine l'amore richiede sempre una relazione tu un'eremita non è che sta lì da solo un'eremita se non ha una relazione ad amore profonda con Dio impazzisce capito? Dio non sa fare nient'altro che questo quando si vive nella nostra volontà dice Gesù ci deve essere tale accordo tra essa e noi ancora noi della Santissima Trinità da formare un solo atto ed un solo amore e all'inizio aveva detto c'è un amore reciproco d'ambo le parti tra Dio e la creatura reciproco noi non possiamo soltanto ricevere da Dio non possiamo soltanto aspettarci qualcosa da Lui o stare sempre a lamentarci perché ci sembra che non ci ama abbastanza o peggio ancora a lamentarci andiamo a messa in questi giorni andiamo a vedere come i grandi santi tipo Tobi e oggi ancora di più oggi abbiamo Tobi e pure Sara nella messa di oggi reagiscono alle prove impressionanti quella Sara tormentata dal demon a Smodeo che appena si sposava uno che morì subito la notte stessa e poi dicevano che era colpa sua tra l'altro i grandi eroi capaci di amare Dio fino a non lamentarsi nemmeno dinanzi a prove veramente gigantesche a ingiustizie colossali a calunnie grosse quanto un grattacello più che una casa quindi altro che amore reciproco ripeto oggi facciamoci questa domanda magari mettete davanti al Santissimo Sacramento chiedi ma tu ti senti amato da me si sente amato da te ma non soltanto per le cose che fai perché l'amore è amore non è soltanto le cose che fai cioè a volte come dire spero di riuscire a farmi capire un padre che fa un sacco di regali al figlio ma non ci sta mai secondo voi il figlio si sente amato non ci sta quante persone oggi quanti genitori no siccome mo lo dico tanto siamo in meditazione quindi se qualcuno vuoi siccome devono farsi gli affari propri perché le donne oggi amici questo politicamente scorrettissimo eh ma io mi devo realizzare e io non posso tutto il gioco chiusare dentro il caso io devo andare a lavorare se ho il figlio e vabbè ci sta la babysitter oppure ci sta la la nonna tanto che ci fa ma come che ci fa e poi magari stasera ti porto la playstation domani sera ti porto il computer nuovo domani sera ti compro l'ultimo gioco adesso non so l'ultima generazione e il bambino chiaramente quando gli regali i giochi è contento perché per carità mica se mette a piagne ma mica te la sarai cavata con qualche gioco o con la playstation quando quel bambino sarà grande ti dirà io ho bisogno di te della tua presenza di vederti ma tu non c'eri avete visto gli animali ogni tanto mi osservo i miei gattini sapete che cosa fanno a volte i gattini si piantano semplicemente per chi ce l'ha si piantano a un metro vicino a te non sempre vengono in braccio che vogliono le coccole allora gli basta stare nel posto dove sentono la tua presenza allora stanno lì ci stai tu ci stai ci stai tu che loro sanno che tu gli vuoi bene ti vogliono bene e allora gli basta stare a un metro di distanza non vogliono nient'altro semplicemente la tua presenza fuori di metafora ti dice ma io faccio tanto volontariato per il Signore aiuti i poveri aiuti in parrocchia faccio il sacrestano leggo vado a leggere le letture faccio pure il ministro straordinario dice pure qualcuno dico eh il ministro straordinario quindi mappa oh oh poi sto pure nel consiglio pastorale della diocesi so pure un collaboratore del vescovo mi dico ammazza oh e poi e poi eh poi no poi faccio parte pure di quel movimento ecclesiale dico ah ok poi andiamo avanti sapete quanta di questa gente non è capace di stare tre minuti davanti al Santissimo Sacramento a fare un po' di atti d'amore a Gesù che sgorgano dal cuore o che è fatta finita la comunione si accende no i banchi dopo la comunione chi lo sa che strani misteri che ci stanno in giro i banchi della chiesa si trasformano in sedie elettriche io ho questa impressione c'ho perché appena hai detto non hai fatto il figlio dello spirito santo amen ci stanno le molle no ci avrai la sedia elettrica perché insomma per uscire così di corsa con Gesù nel cuore insomma si vede che stai così scomodo che dice beh io ho Gesù nel cuore ma avendoci la sedia elettrica sotto che devo fare devo uscire per forza non trovo un'altra spiegazione ragionevole perdonatemi un pochino di ironia mi perdonerà anche il nostro signore no e quindi da questa gente da questi per carità da questi figli e figlie da queste anime ma si sentirà amato il nostro signore ma non vi ricordate nelle ore della passione quei passaggi che a me mi fanno veramente mi fanno spezzare il cuore quanta gente fa tante cose i preti amministrano i sacramenti e io rimango sempre solo ma ve la ricordate questa cosa qui adesso la vado a trovare al volo e la leggo così come sta io rimango sempre solo rimango sempre solo sempre solo lo trovo subito tanto basta che si mette in una ricerca sempre solo ecco qua è l'ora nona quella in cui Giosi viene sbalzato dalla lupa e cade nel terrente cedro me lo leggo questo passaggio figlia piangiamo insieme la sorte di tante anime a me consacrate che per piccole prove per incidenti della vita non si prendono cura di me mi lasciano solo per piccole prove è altro che Tobi e Sara per stupidaggini ma che mi ha dato questa cosa quindi il signore non mi vuole bene quindi io non ti parlo più come i bambini non ho mai fatto questa cosa prendo il pallone e ora non ci gioco più con te tante altre timide e vili le anime timide e vili se c'è qualche cosa che io disprezzi proprio profondamente non le persone ma l'atteggiamento è la viltà che per mancanza di coraggio e di fiducia mi abbandonano per mancanza di coraggio e di fiducia mi abbandonano per tanti e tanti che non trovando in loro torna conto nelle cose sante non si sentono realizzati non si sentono gratificati non si curano di me per tanti sacerdoti che predicano celebrano confessano per amore di interesse e di propria gloria di interesse e di propria gloria wow che gran confessore oh che bella predica oh che bella celebrazione costoro fa vedere che sono intorno a me ma io rimango sempre solo dice Gesù ah figlia quanto mi è duro questo abbandono non solo mi piangono gli occhi ma mi sanguina il cuore ti prego di riparare il mio acerbo dolore col promettermi di non lasciarmi mai solo e lei risponde sì io Gesù lo prometto aiutato dalla tua grazia nella tua dignità e nella tua volontà la cosa più importante è stare con Gesù non è fare una montagna di opere fatte cosa dice Gesù in un passo del Vangelo dice ma signore noi abbiamo predicato in tuo nome tu hai insegnato nelle nostre piazze che fai adesso io non vi conosco allontanatevi da me voi operatori non vi conosco ma hanno predicato nel suo nome come non li conosce non li conosce perché che pratichi nel suo nome non è una cosa così importante ma cosa dice San Marco quando Gesù chiamava gli apostoli nei costi perché stessero con lui e anche per mandarli a predicare e a scacciare i demoni non ci metto niente a trovare la citazione esatta ma sono andato a memoria perché stessero con lui due amanti starebbero insieme 24 ore su 24 io sono stato innamorato se dipendeva da me stavo 24 ore al giorno con l'amore e non mi stancavo e poi finiva la giornata diciamo domani mattina che la rivedo ma questo è ovvio questo è così questo è l'alfabeto degli amanti se tu con il nostro signore non ci stai mai o quando ci stai con il nostro signore non sai manco che digli per carità se non voglio ti incolpa qualcuno all'inizio è normale che uno faccia un pochino di anticamera perché certo il rapporto con Gesù è un rapporto d'amore intensissimo ma non è un rapporto d'amore simile ai nostri amori umani perché non abbiamo il contatto sensibile non abbiamo gli strumenti diciamo più semplici per instaurare questo tipo di relazione però c'è e quando questo parte l'intensità dell'amore divino supera enormemente gli amori umani ma perché Gesù e Maria sono stati vergini e casti ma perché nella chiesa ci stanno i vergini e le vergini ma che pensate è quella gente che non c'ha un cuore un cuore bruciato dall'amore dice la Santa Caterina dice la Santa Teresa di Gesù Bambino ce l'ha ma quelle a te e quando è che un vergine e una vergine diventano proprio uno spettacolo brobrioso infatti fanno un sacco di peccati quando non c'è viva la fiamma dell'amore di Dio diventi una barzelletta diventi allora Gesù dice Dio di contraccambio fa suoi gli atti della creatura trova in questi atti se stesso ma sentite lo sfoggio del suo amore l'altezza della sua santità e in questo amore reciproco si amano tanto che restano imprigionati restano imprigionati qua mi viene in mente un'altra canzone pop moderna un passaggio di un'altra canzone pop moderna bellissima di Raff che è inevitabile follia quando parla di restano imprigionati so che resteremo chiusi qua perché l'amore è prigionia dice Raff in quella canzone si amano tanto che restano imprigionati l'uno nell'altro ma prigionia volontaria che mentre li rende inseparabili si sentono felici immagina se potessimo a me se mi dicessero di stare carcerati con chi dico io ci metto la firma subito e me ne vado all'ergastolo vabbè meglio cambiare discorso volontà mia in quale potenza tu getti l'anima e il labirinto di amore di chi vive in te è un'altra immagine bellissima vedete che un labirinto anche qui viene in mente Raff sempre inevitabile follia non è che lo faccio apposta fammi entrare nel tuo labirinto voglio perdermi dentro di te sono proprio parole con cui si può pregare nella divina volontà c'è proprio il termine perdermi sapete che perdersi e sperdersi sono linguaggi tipici che Gesù insegnano in questi scritti il labirinto perché se tu fai un labirinto ma magari entrassi nel labirinto dell'amore divino te ci metti lì in mezzo non esci più nel labirinto non esci non c'è possibilità di uscire se non c'è qualcuno che ti porta fuori ma magari che fosse magari che fosse e ci sarebbero tantissime altre cose da dire il nostro primo atto della nostra felicità sentite che dice il nostro primo ancora tantissima trinità è amore dare amore se non diamo amore ci manca il respiro il moto l'alimento al nostro essere supremo Dio non sa fare nient'altro se non diamo amore coi fatti amiamo arresteremo il corso alla nostra vita divina la nostra vita divina che è vita dell'amore questo è Dio ciò che non può essere perciò ce ne inventiamo ce ne inventiamo di ogni questa è una glossa che ho fatto io voi dice i nostri ritrovati le industrie gli stratagemmi d'amore innumerevoli e d'amore non solo a parole ma di fatti e opere operanti senza mai cessare e quando l'anima a seconda nella sua parte è più nobile cosa dice Gesù nell'intelligenza getto il seme del pensiero nella memoria il seme del nostro ricordo nella volontà la nostra nella voce il seme della mia parola quella parla ma è Dio che parla in lei nelle opere il moto nel cuore l'amore suo e poi se finisce sempre con la nota durente se non ci fa attenzione il nostro seme divino resta soffocato e quello resta digiuno senza gli alimenti divini attenzione però noi restiamo digiuni del suo amore dice Gesù com'è doloroso seminare senza raccogliere qui se mi permetto se mi posso permettere qualche cosa la capisco pure io ovviamente non ai livelli di nostro signore per carità ma sapeste quante volte specie nelle parrocchie con la parrocchia spirituale no ci sono tanti frutti di cui vengo a conoscenza o perché me lo dicono perché me lo raccontano ma con le parrocchie reali figli cari ha voglia di seminare semini 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 sembra tutto seme sprecato tutto buttato sulla strada ed è veramente una cosa brutta ma non tanto perché non è un problema almeno io non l'avverto così di come dire di mancata gratificazione personale che ti dispiace che i semini sono finalizzati a far nascere la vita divina nelle anime che me ne importa a me non a farmi dire bravo o a farmi dire grazie se c'è qualcuno che dovrà dire bravo e grazie cosa che non credo lo dirà il nostro signore domine Dio a suo tempo non serve che lo dicano gli uomini però uno resta male addolorato proprio per vedere tanta indifferenza no? è però si vede questo che cosa bisogna fare? si continua come continua l'altissimo continuiamo a dardeggiarlo a riscaldarlo quasi come sole che non si stanca nonostante che passa e vede soltanto terre sterili ma quanti beni di più farebbe il sole se non trovasse tanti terre sterili e quanti ne faremmo di più noi se trovassimo animo e ci facessero attenzione le creature sarebbero santi viventi e copie nostre fedeli quindi che se i santi viventi e le copie fedeli non ci stanno perché la gente in solo fila proprio è l'altissimo questa è la dolorosa verità ovviamente speriamo che così non sia per noi grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu ci possa dire, mi sono sentito amato da Te. Perché gioia è più grande di questo quando si va dall'altra parte. Io penso che difficilmente ci possa essere. Nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.